E ora il ciclismo e andiamo in diretta a Guardia Vomano dove c'è Enrico Giancarli con Marta Bastianelli che domenica ha trionfato al Giro delle Fiandre. Allora a te Enrico con questa grande campionessa. Sì, eccoci direttore, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto agli amici del TG8 in diretta da Guardia Vomano. Noi siamo andati a trovare Marta Bastianelli. Ciao Marta, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Questa è la bici del Fiandre, l'ennesima perla della tua carriera. Domenica scorsa hai regalato all'Abruzzo un successo grande così. Sì, diciamo che sono molto soddisfatta. Per me è stata una grandissima gara, una forte emozione. Ovviamente qui in Italia purtroppo non ci rendiamo proprio conto di quello che cos'è vincere un Fiandre. Ma vi posso assicurare che ad oggi inizio a realizzare veramente cosa è accaduto. Credo che sia una delle poche gare più belle della stagione, ovviamente poi alle gare che sono mondiali, europei e campionati nazionali. Credo che sia una gara che oltre a portarti tanto prestigio ti porta veramente un forte ricordo delle persone che ci sono durante tutto il percorso e che ti proprio trasmettono una forza incredibile. Quindi sono molto contenta di aver messo un altro tassello importante alla mia carriera. Ecco Marta, possiamo prendere la maglia. Questa è la tua maglia di campionessa europea, titolo che hai vinto lo scorso anno. Questo è il numero, dove è il numero? Eccolo qua, numero 71, il numero con cui hai vinto il Giro delle Fiandre. Ti chiedo nel tuo personale cassetto delle vittorie più importanti. C'è il mondiale, c'è l'europeo, c'è la Gantt, questa Fiandre a che livello lo mettiamo? Diciamo che questo Fiandre lo mettiamo subito dopo l'europeo perché poi credo che queste magliette sono quelle che porti per un anno intero sulle spalle, è una grande responsabilità e quindi sono qualche cosa che ti trasmettono veramente una forte emozione. Fossi stato un uomo probabilmente avrai detto che questo Fiandre l'avrei messo subito dopo il mondiale. Noi, ti ripeto, non ci rendiamo ben conto di cosa sono queste gare qui, però credo che sono veramente dei tasselli importanti della propria vita e quindi io sono molto soddisfatta di essere arrivata a questo punto e credo con questo qualcuno mi ha detto adesso hai vinto tutto. Non è proprio così, mi manca una delle cose più importanti poi della carriera, no? Che sarebbe il coronamento del mio finire questa strada così lunga in bicicletta. Cosa? Sarebbero le Olimpiadi che insomma cerchiamo poi di lavorarci per il prossimo anno con molta tranquillità e intanto ci godiamo poi altre bellissime gare come anche il campionato italiano che faremo proprio qui in provincia di Teramo. Qui a Guardiavomano il 28 luglio e poi noi verremo con le nostre telecamere e verremo a far vedere il percorso. Marta ti volevo chiedere una cosa, ti rendi conto che bel regalo che hai fatto all'Abruzzo? Noi ti possiamo definire abruzzese o abruzzese adottata? Come preferisci? Allora io sono molto legata poi alla mia terra che è il Lazio, che è l'Ariano, che è il mio paese dove vivevo ormai da tanti anni. Occhio che Roberto si arrabbia dietro le telecamere. Però sono orgogliosa di essere adesso abruzzese adottata perché mi sento veramente a casa. Anche qui ci sono dei posti stupendi dove allenarmi, ho la bambina che ormai parla abruzzese quindi insomma diciamo che sono veramente felice di vivere qui però voglio fare anche un saluto ai miei compaesani ladianesi perché ogni tanto insomma quando non li nominiamo ci rimangono un po' male però sono veramente orgogliosa poi anche quando torno lì di essere ben accolta. Chiudiamo così Marta, questa è la bici con cui hai vinto tanti tanti anni fa il Mondiale questa è la bici con cui hai vinto il Giro delle Fiandre tra quella Marta Bastianelli e questa Marta Bastianelli insomma che Marta è adesso? Diciamo che come si può vedere dalle bici parliamo di tantissimi anni fa sicuramente sono una persona diversa, sono una mamma, una donna, una moglie tante cose adesso mi scivolano di più addosso rispetto a prima perché quando si è giovani comunque senti tanto la pressione anche da fuori che ti viene data quindi credo che di essere una persona molto diversa ma ovviamente in bene e mi fa piacere essere un atleta così e quindi mi auguro ancora di fare qualche anno per darvi grandi soddisfazioni. Marta io ti ringrazio, devi sapere che il nostro direttore in studio è un ex grande ciclista ai tempi della Cantina Tollo quindi magari non so se vuole fare qualche domanda da studio a Marta Bastianelli No? Perfetto, grazie Enrico Ti restituisco la linea, te carine Grazie Enrico